Sono Mia Le Conte. Ho voluto partecipare con questa mia poesia per protestare contro il vergognoso bloccheo imposto a Cuba. Leggo in italiano. Fratelli, vengono tutti qui, si riuniscono sul piazzale, premono all'entrata, saltano sul muro di cinta, si arrampicano le inferiate, entrano sì nel giardino, raggiungono il tetto, le terrazze, ingombrano le finestre, vengono ogni giorno, tutti di ogni nuovo anno, non vogliono introdursi, certo non sono qui per restare, tornano soltanto, ora dopo ora, scuotono dalle fondamenta, schermano la vista, ogni più piccolo rumore. Casa è quel che a volte resta, le tracce dell'assedio, cibo, abiti, cartacee. Quando all'improvviso imprevedibile si svuota attorno, cessano un istante di tornare.